Televoto, stop al televoto, Pippo stai lì, arrivano tutti i ragazzi quando io faccio questo gesto che è quello del noi che Ascoltalo con noi Noi che nella calza della Befana trovavamo un mandarino, un pugno di arachidi e forse qualche soldino di cioccolata Noi che quando sentivi suonare gli zampognari era Natale Noi che Topolino aveva le pagine a colori e quelle in bianco e nero Noi che suonavamo la batteria con i fostini del detersivo Noi che non si cominciava a mangiare se non eravamo tutti a tavola Noi che non si poteva avere lì, sulla libreria, in cameretta l'enciclopedia I-15 comprata a rate da mamma e papà Noi che volevamo essere come Fonzi e invece l'abbiamo visto da te, caro Carlo che Fonzi è diventato come noi Noi che, perché Sanremo è Sanremo Noi che siamo cresciuti pane e baudo Noi che abbiamo festeggiato le nozze d'oro e abbiamo visto più baudo in tv che il marito in casa Noi che quando compramo la prima lavatrice ci passamo due ore davanti per vedere come faceva ad imitare la mamma Noi che per passare dall'LP al 45 giri dovevamo mettere il riduttore al giradischi Noi che dicevamo ti amo ballando Noi che con quel lento ci stringevamo sempre più forte perché il mondo fosse tutto nello spazio di una mattonella Noi che facevamo una domanda imbarazzante la mamma rispondeva capirai a suo tempo Noi che facevamo le previsioni del tempo guardando il cielo Noi che consumavamo le suole delle scarpe ballando il twist nei garage Noi che di ogni cantina facevamo un piper Noi che per fortuna anche se ci tolgono tutto abbiamo ancora la musica Io che vi ringrazio per l'affetto di queste 14 straordinarie settimane E l'ultimo grazie, spero di aver ringraziato tutti L'ultimo grazie lo faccio alle mie quattro meravigliose compagne di viaggio Anurgo, venga qua, venga con Mauro Pippo, vieni qua con noi Roberta Morise è la sua straordinaria voce Angela Tuccia è la sua unica eleganza Sara Paciolini è la sua energia Elena Ossola è la sua dolcezza Benito Urgo è sua figlia Pippo, grazie di essere stato con noi Grazie a tutti, domani è l'eredità da non perdere Mi raccomando come sta No, no, non la sposo Vediamo la classifica Io spero di aver ringraziato tutti In questa, credo di averci tango, li reparti Vi ringrazio tutti di cuore Gli studios, il personale degli studios Tutti voi Vediamo il decennio campione Come avete votato voi da casa E la somma delle due classifiche Primo posto Anzi partiamo dal quarto, ovviamente Quarto posto Gli anni 90 Terzo posto I 70 Secondo posto E primo Primo gli anni 60 Secondo gli 80 Grazie a tutti Continuate così Con i vostri e i nostri migliori anni Grazie a tutti Buonanotte 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 Grazie a tutti.